Eder, Mech, Pallister La mamma Stella Forgiani, di Cassano Magnago, ha lanciato un appello sui social dopo aver denunciato l'allontanamento della figlia, Rebecca, di 14 anni, mercoledì 11 ottobre. La ragazza è stata vista in sella a una mountain bike bianca e indossava una maglia nera con scritta Los Angeles, uno zaino nero e scarpe grigie. Chiunque abbia informazioni è pregato di contattare il numero 0331472411 oppure il 112. Giorni di preoccupazione a Palermo per la scomparsa di Francesco Nabla, un appassionato tifoso della squadra della sua città, che fa parte del gruppo emigrati Rosa Nero. Gli amici lo conoscevano come mezzo chilo e non si hanno più sue notizie dalla mattina di mercoledì 3 ottobre, quando avrebbe dovuto prendere il treno da Venezia per ritornare a Palermo. La famiglia ha presentato una denuncia di scomparsa e le autorità hanno iniziato le indagini per ritrovare Francesco. Le foto dell'uomo campeggiano sui vari gruppi dei tifosi del Palermo, accompagnate da un appello alla popolazione. Chiunque veda o senta qualcosa è pregato di contattare il numero 3271-092331. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale! Ehi, non dimenticare!